Il Presidente del Senato, la Russa, rimette in discussione il reato di apologia del fascismo, dice che non è sempre reato, cosa ne pensate? Esatto, dipende con che intensità tendi il braccio. In questo Paese la questione è molto chiara, c'è il reato di apologia del fascismo, e la Russa se ne faccia una ragione, il suo revisionismo storico è un suo fatto personale che non deve interessare il Paese e le certezze di questo Paese. Che significato politico dà il silenzio del Premier Melone? Che non ha il coraggio di prendere una posizione, cosa che alcuni del suo partito hanno avuto il coraggio di fare. Lei non ha avuto, e questo ne prendiamo atto, e ormai va preso atto perché sono passate molte ore, non ha avuto il coraggio di prendere una posizione netta e chiara su questa vicenda. C'è una matassa da sbrogliare nel centro-destra, tema regionali, sulle candidature, nel centro-sinistra, quindi il PD Movimento 5 Stelle ha risolto il nome sulla candidatura? In Sardegna? Noi in Sardegna sì, abbiamo risolto per noi Alessandra Todd e anche il centro-sinistra è stato molto chiaro e ha chiesto a Soru di non rimettere in discussione una certezza che si è venuta a creare tramite un processo territoriale sardo e quindi mi auguro che si possa convergere tutti per ottenere un grande risultato in Sardegna che servirebbe prima ai sardi e poi ai partiti che comporranno la maggioranza. La Sardegna è una calenda che vuole minare un po' questa nuova unità della sinistra oppure c'è libertà anche per quei partiti che non fanno parte di questa idea di unione? La libertà è un principio sanissimo, quindi tutti sono liberi di aderire a un progetto e tutti non aderire. Questo il Movimento 5 Stelle lo dice quando ha il candidato presidente come quando non ha il candidato presidente. Bisogna crederci in un progetto, non bisogna fare alleanze senza un presupposto saldo perché poi se si vince bisogna governare. Quindi chiunque entra in una collezione ci deve entrare convinto di far del bene al popolo che si vuole governare. Comunque le farete separatamente, in Abruzzo siete d'accordo tutti quanti partiti nella sinistra e nelle altre regioni? Dove c'è un progetto che ci convince, è una storia che ci convince, lo facciamo. Dove questo non c'è cominciamo a costruirla ma non da subito. A Firenze vi convince? Queste sono tutte questioni che ancora sono in fase di costruzione. Io posso dirti le certezze quali sono, le cose che ancora sono in pista le comunicheranno i diretti interessati, non voglio farle io che sono il capogruppo della Camera.